che quel braccialetto è molto potente e bla 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 che puoi tenerlo o rimetterlo dove l'hai trovato cosa che io ti consiglio caldamente di fare bene, e ora che lo sai arrivederci secondo il maestro dovrebbe essere qui da qualche parte ma dov'è? nanopower ricerca wow allora è questo il portale spazio-temporale nanopower trasforma non mi importa io farò sempre del mio meglio non importa cosa, dove o con chi te lo garantisco, ti batterò, ti batterò, ti batterò sei destinato a perdere